Tra i tanti settori in crisi dell'economia molisana c'è anche quello dell'editoria, di fatto abbandonato a se stesso. TV locali, giornali, radio e periodici costretti a ridimensionare il personale e in alcuni casi ad essere sepolti da una valanga di debiti. Si è discusso di questo nell'incontro organizzato dall'Asso Stampa Molise e dall'Ordine dei giornalisti con i candidati presidenti alla Regione. C'è il crollo verticale della pubblicità fino ad arrivare ad alcuni settori in cui si è praticamente azzerata. C'è un sistema di vendite che non funziona, almeno nella nostra Regione, l'80-90% quasi dei paesi non riceve più l'editoria quotidiana, giornali e periodici. C'è un sistema di finanziamento pubblico che è unico in Europa, ormai è ridotto a lumicino sia a livello locale che a livello nazionale. E questi sono dei temi che devono essere affrontati al più presto. Lei ha incontrato i quattro candidati alla presidenza della Regione come Asso Stampa. Come è andato l'incontro? Sì, la associazione della Stampa, assieme alla collega Giuseppina Petta che è il presidente dell'Ordine dei giornalisti, abbiamo significato ai quattro candidati presidenti tutte le criticità del settore. Criticità che, attenzione, non sono un problema solo sociale, economico o occupazionale, ma rivestono anche un problema di democrazia. Cioè informare bene i cittadini è un aspetto che riguarda la formazione dell'opinione pubblica. Quindi non è una cosa secondaria alla sanità o altri beni essenziali di una società moderna. Devo dire, abbiamo riscontrato la ferma volontà di tutti e quattro di discutere assieme a noi, agli organismi in categoria, quali sono le misure migliori per aiutare il settore ad uscire da questa crisi devastante. Ti sei sempre battuto per modificare l'attuale legge regionale sull'editoria. Pensi allo stesso modo ancora? Certamente. C'è bisogno di una legge che sia equa, che sia produttiva e che vada a incentivare l'occupazione e soprattutto a sostenere le aziende, perché senza le imprese non c'è lavoro, ma non c'è anche pluralismo dell'informazione di cui una collettività come la nostra ha estremamente bisogno. Faremo una battaglia ancora una volta. Noi ci auguriamo che non sia tale, ci auguriamo che sia confronto con le istituzioni, con chi vincerà ma anche con chi andrà a ricoprire l'opposizione, per avere strumenti adeguati e soprattutto sostegno per le imprese di cui in questo momento c'è estremo bisogno. Dunque l'informazione corretta e obiettiva rappresenta il sale della democrazia, ma troppo spesso viene trascurata dalla classe politica e di governo.